Maria Lucia Revisore-Porto In video al vostro coraggio, siete di grande ispirazione. Vorrei avere la forza di farlo anche io. Questi sono alcuni dei commenti che io e Chiara riceviamo ogni volta che postiamo una nostra foto sui social. E a chi non conosce, chi non ci conosce, sorgerà spontanea una domanda. Di quale eroica gesta ci saremmo mai rese protagoniste? Abbiamo militato nel YPG nel Rojava? Siamo delle reporter di guerra dalla striscia di Gaza? Niente di tutto questo. Semplicemente siamo due donne grasse che vivono liberamente il proprio corpo. E nello specifico siamo due attiviste per la Fat Acceptance, un movimento che nasce dalla seconda ondata femminista degli anni 70 ed è l'antenato della Body Positivity. Quest'ultima ha spopolato ultimamente nella maggior parte dei media dedicati ad un pubblico prettamente femminile grazie a una retorica legata all'autostima, all'amare se stesse, ad accettare il proprio corpo. Ma la Fat Acceptance non è così palatabile perché denuncia le discriminazioni che subiscono le persone grasse, nello specifico la grassofobia. Quest'ultima parola si sente nominare ancora meno spesso perché viene difficile percepire le persone grasse come vittime perché siamo ritenute responsabili della nostra stessa condizione. Io e Chiara siamo cresciute e viviamo in Sardegna, una terra nota come metà estiva, famosa per le sue bianche spiagge sabbiose, incastonate nel granito rosa e lambite da acque turchesi. Ma noi, per anni, in quelle torride estati, di baffi sudati e sottotetta sudati, ci siamo convinte che andare al mare fosse un'abitudine volgare. Evitavamo di andare per l'appunto al mare, vestivamo di nero, ascoltavamo canzoni tristi e rifugivamo quegli orribili salubri raggi solari, per citare Magamago. Ovviamente la verità era che eravamo a disagio con il nostro corpo e terrorizzate all'idea di lasciarlo alla mercè di un giudizio che conoscevamo già molto bene. Ma nel momento in cui abbiamo deciso di rivendicare lo spazio che occupiamo nel mondo e la parola grassa come un aggettivo neutro, senza alcuna accezione negativa, la nostra vita è cambiata e improvvisamente ci siamo trasformate contemporaneamente in eroine, ma anche nel cattivo esempio da addittare al pubblico ludibrio. Eroiche perché ci vuole coraggio a mostrare un corpo come il nostro, che è considerato un inestetismo da debellare, è da coprire e da correggere, è anche un nemico pubblico, perché questo nostro vivere in questo modo, il nostro corpo, potrebbe incoraggiare altre persone a fare la stessa cosa. E cosa potrebbe succedere? Che queste creature che vivono negli abissi della vergogna potrebbero evolversi, strisciare verso la terraferma e trasformarsi in qualcosa di imprevedibile, come delle persone a tutto tondo che non somigliano minimamente alla rappresentazione che ne viene fatta delle persone grasse sulla televisione, al cinema e nelle serie TV. Una donna magra che posta una foto mentre mangia dei carboidrati complessi viene celebrata perché non è ossessionata dalla dieta, perché è stata benedetta da un metabolismo più veloce di Usain Bolt. Ma se si disattendono le aspettative e si scardina lo stereotipo della donna grassa, infelice, insoddisfatta e patetica, ci si trasforma in promotrici dell'obesità, che poi me le immagino la vita della promotrice dell'obesità come quella delle network marketer che ti vendono i frullati per dimagrire come una ghiotta occasione di guadagno una straordinaria opportunità di lavoro. Però al contrario. In quanto donne grasse siamo considerate meno valide come donne e quindi ci si aspetta che la vergogna sia il nostro habitat, il luogo in cui osservare la nostra specie, in cui dobbiamo essere studiate. perché il nostro corpo è considerato la trasposizione delle nostre cattive abitudini, della nostra negligenza, del nostro indulgere nel cibo spazzatura. Ma, breaking news, le persone grasse sono sempre esistite. A testimonianza di questo c'è la Venere di Willendorf, una statua che rappresenta una donna grassa e che risale al paleolitico. Ora, c'è qualcosa che non ci hanno detto dalla preistoria. Per caso i poteri forti ci hanno nascosto i fossili dell'Epimil? Sono passati diversi anni da quando il grasso era considerato un simbolo di fertilità e una caratteristica tipica dei ceti più alti, esattamente un secolo e mezzo. E ad essere responsabili del processo culturale che ha portato il grasso ad essere disprezzato, ci sono, contribuiscono il classismo, il colonialismo, la tratta transatlantica degli schiavi e il suprematismo bianco. Ora, per parlare del litter storico che ha portato a questa situazione, questo intervento dovrebbe avere più o meno la durata della trilogia della depressione di Lars von Trier. Ma, perché le persone grasse sono coraggiose? è nello specifico perché io e Chiara lo siamo dal momento che sono partita dalla nostra esperienza. Sebbene i commenti che io ho citato in apertura siano indubbiamente mossi da buone intenzioni, il sottotesto rimane il fatto che dobbiamo essere coraggiose per mostrare questo scorpo, dovremmo vergognarci e infatti ci viene spontaneo domandarci ma è ammirazione per la nostra autostima o stupore perché non ci facciamo terribilmente schifo? In realtà l'autostima ha poco a che fare con tutto questo perché noi non pensiamo di essere le donne più avvenenti che abbiano mai calpestato il suolo terrestre e non viviamo neanche nell'estatica contemplazione del nostro riflesso allo specchio. Infatti sono altre le motivazioni a muoverci ovvero l'idea che non dovrebbe esistere uno standard da perseguire quando si parla di corpi e che ogni corpo sia valido a prescindere dal suo peso dal suo stato di salute dalla sua abilità dalla sua identità di genere e dalla sua razza. Quindi ci viene anche da dire che in ogni caso l'autostima non cambierebbe mai la nostra condizione nella società perché è appunto il modo in cui la navighiamo. Vi faccio un esempio. Immaginiamo questa conversazione. Guardi signorina lei non rappresenta i valori del brand che traduzione non è di bella presenza lei è grassa. Risposta ma guardi mi dia l'occasione di dire che mi amo non so se abbiamo avuto modo di discuterne io mi amo da morire mi amo di brutto quindi dovrebbe rivedere le sue decisioni. è insensato giusto è insensato perché stiamo parlando di uno stigma sistemico la grassofobia esiste sia in una dimensione intrapersonale ovvero il modo in cui noi viviamo il nostro corpo sia in una dimensione sistemica ovvero nel nostro modo di muoversi all'interno dell'ambiente di lavoro e determina anche pregiudizi in ambiente medico è anche accessibilità ai luoghi pubblici per le persone con un corpo più grasso quindi anche se vivessimo nel culto del nostro corpo e di noi stesse manco fossimo cani west non cambierebbe la situazione però bisogna dire che effettivamente siamo coraggiose ma non perché mostriamo il nostro corpo o esistiamo in modi inaspettati lo siamo perché sebbene veniamo considerate il prima di un dopo che suona come un evissero felici e contenti noi decidiamo di vivere liberamente la nostra vita lo siamo perché rivendichiamo la parola considerata l'insulto per eccellenza tanto che vengono utilizzati un sacco di giri di parole ed eufemismi per evitare di pronunciarla come robusta formosa grassottella paffuta bella di faccia ma anche mi è capitato ben distribuita manco fossi un luminoso attico a Milano dalla moderna distribuzione degli interni lo siamo perché siamo allo stesso tempo nascoste in piena vista e anche facili obiettivi invisibili perché considerate donne non valide di attenzione quanto meno quella maschile ma anche continuamente oggetto di giudizio sul vocabolario la definizione di coraggio è qualità d'animo che permette di andare oltre un ostacolo o un pericolo ma il nostro corpo non è un ostacolo e non è neanche un pericolo e nessun corpo non normato lo è ora io spero in questi pochi minuti che con le mie parole io sia riuscita a darvi una vaga idea di cosa sia la grassofobia e di aver aperto una piccola crepa nelle convinzioni nei pregiudizi che avete nei confronti dei corpi e che quando uscirete da di qui comincerete a smantellare la vostra grassofobia e vi unerete nella nostra lotta ma allo stesso tempo vorrei che queste parole fossero una sorta di bat segnale che io immagino come un grande sedere nel cielo tra l'altro per tutte quelle persone che sono grasse voglio che sappiano che il loro momento è di smettere di odiarsi di disprezzarsi e di vergognarsi e anche mettere quel vestito che si diceva che non ci potevamo permettere o per cercare di passare inosservate abbiamo evitato io per esempio stasera ho fatto esattamente il contrario questo è il vostro momento dovete vivere la vostra vita qui e oggi e siete liberi e libere di prendere tutto lo spazio che volete grazie 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 grazie